Agostino Baiocco, fondatore di Markup. Oggi siamo qui riuniti all'incontro organizzato da SG89 per parlare di strumenti alternativi al canale bancario per finanziare le piccole e medie imprese. Il messaggio che si vuole lanciare è quello di spingere le imprese Umbro-Marchigiane ad approcciare questi nuovi canali, visto che le ultime statistiche dimostrano che le imprese Umbro-Marchigiane sono quelle del centro nord Italia che utilizzano meno questi nuovi strumenti finanziari.